Due incontri aperti alla cittadinanza sono il risultato della collaborazione tra liceo musicale e coreotico Giuditta Pasta, fondato dall'Accademia di Musica e Danza Giuditta Pasta, e il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Como. Il 21 maggio, presso l'Accademia Giuditta Pasta, il futuro della cultura a Como, riflessioni e progetti, aprirà le porte a un dibattito sull'importanza che la cultura deve avere in città, un incontro intervallato da momenti musicali realizzati dagli allievi e dai docenti del liceo e del conservatorio, in cui si parlerà della cultura a Como a livello generico, non solo con gli della musica e della danza, ma a tutto tondo, sia per capire quali sono anche le aspettative dei comaschi, sia per capire che cosa di buono è stato fatto e che cosa di buono si potrà ancora fare. Quindi più un incontro che voglia essere di stimolo per la progettualità futura. Cercheremo di creare i presupposti per raccontare alla città di Como, a genitori e allievi, come si sviluppa il mestiere della musica, quanti siano le possibilità nel campo discografico piuttosto che editoriale. Questo è un incontro che prevederà molte persone, molte personalità, credo che sarà molto interessante. Il 9 giugno alle 18 all'Accademia Giuditta Pasta un momento di musica a cui seguirà alle 20 nell'auditorium del conservatorio il dibattito Fare il musicista, un hobby o un lavoro, per riflettere insieme sulla realtà della professione del musicista, portatore di cultura e non semplice intrattenitore. Troppo spesso il musicista è considerato una persona che lo fa per hobby o che lo fa solo come intrattenimento, ma non viene considerato una figura professionale al 100%. Grazie a tutti.